Ritrovata a Roma sana e salva la professoressa di Montefelcino scomparsa da casa. A casa e senza stipendio parla Enzo Palladino, infermiere del Torrette di Ancona. Il Green Pass non piace al noto compositore pianista Mario Mariani che ha deciso di annullare i suoi cinque concerti italiani per andare a suonare all'estero. Un lupo entra in un cortile e azzanna un gatto e è accaduto a Fano nella zona dell'aeroporto. Al Codma di Rosciano oltre 200 persone per l'esercitazione annuale di protezione civile. Il quartiere Vallato cambia pelle, presentato il progetto di riqualificazione da mezzo milione di euro. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri Un cordiale saluto, benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Sul canale 17 c'è Occhio alla notizia che apre questa sera con una buona notizia appunto. Quella che riguarda il ritrovamento di Daniela De Matteis, la professoressa di educazione fisica di 58 anni che mercoledì mattina non si era presentata a scuola alla lezione dove insegna, alla scuola media Padalino. La donna che viveva sola si era recata a prendere l'autobus, come ogni giorno, che la portava dalla sua abitazione di Montefelcino al lavoro. Da quel momento si erano perse le sue tracce. La prefettura aveva attivato il piano provinciale per le persone scomparse e dopo circa 48 ore di ricerche dei carabinieri, con l'ausilio dei vigili del fuoco e fatte anche controllando le telecamere di videosorveglianza, la donna è stata ritrovata questa mattina nella capitale in buone condizioni di salute. Restano ovviamente da chiarire i motivi di questa decisione di allontanarsi da casa. C'è anche Enzo Palladino tra i sanitari sospesi dall'ospedale di Torrette di Ancona perché contrario alla vaccinazione anti-Covid. Oggi l'infermiere è a casa, senza stipendio, ma continua la sua battaglia attraverso il sindacato Laisa, che ha presentato già due ricorsi. E la logica conseguenza di chi non accetta un ricatto e resta a casa senza lavoro. Sono le parole di Enzo Palladino, 52 anni, infermiere del reparto di endoscopia digestiva all'ospedale di Torrette di Ancona, ufficialmente sospeso dal servizio per aver detto no al vaccino anti-Covid. Una battaglia che Enzo porta avanti ormai da mesi e che lo vede in prima linea contro l'obbligo imposto dal governo anche attraverso il Laisa, il sindacato dei lavoratori indipendenti della salute di cui è presidente. Il popolo italiano è diviso a metà, ma soprattutto è diviso a metà in base a una certa mancanza di cultura o ignoranza. C'è il pensiero, la possibilità di pensare che un sanitario vaccinato sia di assicurezza per il contagio e un sanitario non vaccinato sia un vero e proprio pericolo per i pazienti. Questo non è vero, gli studi lo stanno confermando e la parte logica della norma praticamente non ha più senso. Oggi Enzo non percepisce più lo stipendio, ma ciò non lo spaventa e si servirà, sarà pronto a rimboccarsi le maniche. L'ottobre consumerò lo stipendio di settembre, a dicembre ci sarà una quota della tredicesima, ci sarà un vuoto a novembre ma si sopravvive. Il lavoro che farò io spero di continuare a fare l'infermiere. Poi ci sono tante altre possibilità, tante altre cose. Io ho un diploma pure da ragioniere, perito commerciale, programmatore, ho avuto un escursus anche da barman. Poi credo che non trova lavoro chi non vuole lavorare. Poi abbiamo sempre il reddito di cittadinanza, quindi se resterò senza lavoro prenderò circa i quattro decimi dello stipendio che prendevo prima senza lavorare. Intanto Enzo prosegue l'attività all'interno del sindacato che ha intrapreso due ricorsi, sia di fronte al Tar delle Marche che al giudice del lavoro. Il primo contro l'Azur e il secondo nei confronti dei provvedimenti adottati dal datore di lavoro. Ecco, e dal 15 di ottobre poi che cosa succederà? Il 15 ottobre è una data molto curiosa perché i lavoratori hanno a disposizione un'arma importante, vale a dire che previa comunicazione possono non presentarsi sul posto di lavoro. Certo, perdono la retribuzione per i giorni in cui non si vogliono presentare, ma al tempo stesso non perdono il posto di lavoro e non sono assoggettati a sanzioni disciplinari. Le sanzioni disciplinari si possono verificare quando il lavoratore vanno da 600 euro a 1.500 euro, quando si presenta sul posto di lavoro, anzi la normativa il 127 parla di luogo di lavoro, e non è in possesso del Green Pass oppure non lo esibisce. È un'opportunità di vendetta, se così vogliamo, anche per quelli che sono stati costretti al vaccino. Quindi lo sciopero diventa un'arma molto secondaria perché mira a contemperare i diritti della salute con quello dello sciopero. In questo caso l'astenzione dal lavoro, prevista tra l'altro per norma, quindi lo Stato credo che se abbia riletto quello che ha firmato, prenderà provvedimenti nei prossimi 3-4 giorni. E il certificato verde ha reso la vita difficile anche agli artisti. Il noto pianista Mario Mariani ha deciso di annullare i cinque concerti programmati previsti in Italia e di andare quindi a suonare all'estero dove non serve il Green Pass. Green Pass obbligatorio, niente concerti. È la dura posizione presa dal noto pianista Mario Mariani, l'artista, pesarese di 51 anni, è un affermato compositore che spazza dalla musica contemporanea alle esibizioni teatrali e in luoghi inusuali, scrivendo colonne sonore per cinema e televisione. Ha composto anche le musiche per il cinema di Venezia ed è l'ideatore e direttore artistico del Teatro Libero del Monte Nerone, un festival estivo che si svolge all'interno di un bosco ai confini tra Marche e Umbria. Nel 2010 portò un pianoforte a coda all'interno della Grotta dei Prosciutti, in cima al Monte Nerone, vivendo a suo interno per un mese e offrendo ogni giorno un concerto pubblico. In totale Mariani vanta un migliaio di concerti in tutto il mondo, ma ora dopo le pesanti ripercussioni provocate dalla pandemia che ha penalizzato anche il mondo della musica e dello spettacolo, si vede costretto a far fronte all'ennesima limitazione, il passaporto verde. Ho annullato diversi concerti che avevo e non ho più preso concerti nei posti in cui si chiede questa barbara e questa coercizione, quindi non voglio prestarmi a questo ricatto e non molti, ma diversi artisti la pensano come me, naturalmente non quelli che hanno firmato quel disperato appello a Draghi chiedendo di riaprire i teatri al 100% in cambio di sottostare appunto a questo vile ricatto. E ha deciso anche di non rilasciare interviste ai vari giornali, perché? Certo, beh, naturalmente visto che la maggior parte dei giornali sono dei, diciamo, servi, sono appunto megafoni di questo potere e del cosiddetto pensiero unico, tra l'altro mi ricordo che prima di questa storia l'Italia aveva stata fatta questa classifica, era al 44esimo posto come libertà di stampa al mondo sotto paesi come Burkina Faso, ora credo che siamo veramente scesi molto molto più in basso, quindi anche per non alimentare tutto questo, quindi parte della mia disobbedienza civile, obbedienza costituzionale, è anche nel non voler inviare più dei comunicati stampa e non fare più circolare queste notizie su dei giornali, su della stampa che fondamentalmente ha perso la mia stima, per quello che loro può interessare, però ecco, non voglio fare parte qui di questo oscuro disegno. E ora lavorerà all'estero? Beh, ho già un paio di concerti, fortunatamente settimana prossima, Scopie e Tbilisi, naturalmente non abbandono l'Italia, perché credo che invece questo sia un paese in cui siamo, come dire, una sorta di prima linea, siamo proprio una trincea, anche perché è l'unico paese, ricordo l'Italia, in cui questa tesserina verde è un ricatto che è una sorta di mobbing di Stato, che colpisce proprio gli stessi lavoratori, all'estero non c'è, le persone possono svolgere il loro lavoro, ci sono delle restrizioni per quanto riguarda concerti, magari concerti con molta gente, teatri, cinema, ma le persone possono svolgere assolutamente nella maniera più tranquilla e più giusta il loro lavoro. Non si accetta un contraddittorio ponendo sullo stesso piano ugualmente chi crede nella terra piatta invece di un pensiero differente. Spesso pronti a lanciare strali, sono gli artisti e gli intellettuali a chi minaccia i diritti umani, specialmente quando sono lontani. Nonostante tutto, secondo Mariani, l'emergenza sanitaria e le limitazioni imposte dal governo hanno portato ad un risvolto positivo. Vedo un certo risveglio da parte di tante persone, io stesso collaboro con dei circoli, ogni città ha il suo gruppo di resistenza contro questa ingiustizia, contro questa forma anticostituzionale e anti-umana. Io che sono di Pesaro, collaboro con i cittadini liberi di Pesaro, c'è anche un sito a cui invito, cittadini liberi Pesaro.org, ogni settimana ci incontriamo, facciamo il punto, organizziamo delle manifestazioni, siamo partiti in sette sul salotto di uno di noi, in maniera molto carbonara e facciamo degli incontri in cui ogni volta ci sono 100-150 persone. Nulla sarà come prima, può anche essere un'opportunità per cui finalmente qualche cosa sia meglio di quello che c'era prima, che onestamente è molto da buttare e da dimenticare. Vecchia piccola pandemia, per piccina che tu sia, sei il perfetto strumento adatto per fotter quel che resta della democrazia. E adesso l'aggiornamento Covid. Nelle ultime 24 ore si è verificato un decesso legato al virus. Si tratta di un uomo di 71 anni, residente a Muccia, in provincia di Macerata. Tra le nuove diagnosi invece i positivi sono 71 in testa per numero di contagi. C'è la provincia di Ancona con 23 casi. A Pesor Urbino invece se ne contano 18. Resta invariato il numero dei ricoverati negli ospedali della regione, che sono 51. Due pazienti meno invece in terapia intensiva, mentre rimangono 17 quelli in semi-intensiva. Dramma invece nel porto di Recanati, dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. Sin dal primo pomeriggio, la capitaneria di Porto di Ancona è stata impegnata nelle attività di ricerca di una persona, segnalata in mare lungo il litorale tra Romana e Porto Recanati, nonostante le condizioni meteo risultassero proibitive. Sono state impiegate le pattuglie terrestri, due mezzi nautici e un mezzo aereo proveniente da Pescara. Le operazioni di ricerca, durate più di due ore, sono terminate con il ritrovamento del corpo senza vita sul litorale in località Scossicci. Non si hanno ancora notizie sull'identità dell'uomo. Ci spostiamo invece adesso nella zona dell'aeroporto di Fano, dove un lupo ha zannato un gatto nel cortile di una casa. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Azzanna il gatto dietro il collo e tenta di portarlo via, ma qualcosa per il lupo va sorto e molla la presa. Destano un poca preoccupazione la crescente presenza degli animali selvatici nelle vicinanze dei centri abitati. Queste immagini sono state registrate una settimana fa dalle telecamere installate in una casa in località Madonna Ponte nella zona dell'aeroporto a Fano, increduli residenti che dopo cena hanno iniziato a sentire i versi disperati degli animali. Allora a quel punto mio figlio si apre e va sul terrazzo e si accorge che c'era un lupo che stava attaccando il mio cagnolino e allora ha cominciato a urlare un lupo, 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 lupo. E questo qui è andato via, abbiamo acceso le luci. E' andato via, ma non con tanta fretta. Sono abbastanza tranquilli. E la cosa, siamo rimasti così stupiti. Poi guardando le immagini vediamo subito che c'erano prima di tutto un lupo che mi aveva attaccato e preso ripetutamente un mio gatto, tre gatti, un gattone fra l'altro anche molto robusto. L'ha preso e se lo portava via. E' inseguito a sua volta dalla madre di questo gatto, la gattina e il fratello. A quel punto si vede un secondo lupo che esce dalla siepe intanto all'altro. Gli sfugge la preda. L'ha portato, secondo me, lo portava verso il suo rifugio dove avrà avuto sicuramente dei cuccioli. Ecco, quindi il gatto è vivo per fortuna ma quello che fa pensare è la presenza dei lupi in un luogo così popolato. C'è il garage, è successo tutto nel garage che è tutto in piano. Voglio dire, ma c'è il portone e passo lì, insomma, a due metri. Non è che è attaccato a casa. Sono pericolosi perché non hanno neanche paura perché nonostante che, come si dice, mio figlio l'ha visto subito, urlato. Il lupo è... Quindi cerchi di fare più casino ancora. Il cane che gli abbaiava, sti gatti che poi... Questo, tranquillo. Si vede, infatti, anche dall'immagine. Sì, c'è un passo. Il passo veloce è quello che aveva in bocca il gatto che stava scappando, andava via. Se no, attraversavano come se niente fosse. E adesso, invece, ancora la cronaca con i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti al porto di Numana per recuperare un natante affondato, probabilmente a causa dell'ondata di maltempo. La barca è stata sollevata con degli appositi palloni gonfiabili e portata vicino alla gru presente nel porto per sollevarla sulla banchina. Anche quest'anno al Codma di Rosciano di Fano sono arrivate oltre 200 persone provenienti da tutta Italia per le esercitazioni di protezione civile. Il Codma di Rosciano di Fano, anche quest'anno, è il quartier generale delle esercitazioni della protezione civile. L'evento, organizzato da FirCB, la federazione italiana ricetrasmissioni, è finanziato dal Dipartimento di Protezione Civile mentre il CB Club Mattei di Fano ha messo a disposizione l'area. Un punto di riferimento a livello nazionale che ieri ha accolto 200 persone tra colonna mobile e nuovi ragazzi che andranno in aula. I volontari, provenienti da tutte le regioni d'Italia, sono arrivati a Fano per quattro giorni di formazione che termineranno domenica. I vari settori che si eserciteranno per dare forza alla colonna mobile di pronta partenza sono la segreteria, l'unità di crisi, la logistica, la cucina e le radio. La parte della tenda montante è la colonna mobile che è partita a supporto di chi è in aula. La colonna mobile è arrivata ieri mattina presto sapendo di dare in pratica ricovero alla popolazione che poi al posto della popolazione sono entrati i ragazzi loro stessi e i ragazzi che partecipano in aula hanno montato esattamente 23 tende. Su queste tende ieri sera hanno preso posto a dormire sia la colonna mobile, le 60-70 persone della colonna mobile, sia i 100-120 che sono in aula. Quindi ieri sera hanno già dormito qui all'interno. Quindi la colonna mobile ha messo in piedi la cucina. Il compito dell'unità di crisi è anche quello di convogliare tutti sul posto dove è successo l'evento naturalmente sia al nord, al sud, al centro da casa guida, faccio un esempio se il Piemonte passa in pratica in Toscana poi in Emilia e arriva nelle Marche. Un'esercitazione che era stata programmata per aprile 2019 a Codogno per poi essere rinviata a causa coronavirus nei mesi di ottobre e novembre per via delle difficoltà portate dalla pandemia infine è stata realizzata a Fano. È la prima in assoluto esercitazione che viene attuata con le procedure come definiamo noi emergenza in emergenza sanitaria per cui tutti i volontari ci sono delle procedure che sono ovviamente state immediate fra quello che può essere la situazione di un ufficio che è molto rigida, molto stretta e in una situazione di emergenza dove certe procedure erano ovviamente inapplicabili. Quest'anno è stato messo in atto un nuovo progetto di formazione si tratta di alcuni carrelli dotati di tutto ciò che è necessario da carriole per il fango a idropulitrici per far fronte alle emergenze idrogeologiche. In questi ultimi periodi ci siamo dedicati a predisporre un sistema di risposta alle emergenze idrogeologiche per cui abbiamo fatto un progetto come è un po' la nostra logica è tutto nostro per cui questi sono prototipi che sono dei carrelli che portano in un'area dove c'è un problema di idrogeologica con motopompe, motoseghe idropulitrici per sbloccare sgorgare tutto carriole per portare via il fango è un'idea di mettere in un carrello tutto quello che serve per un intervento idrogeologico è chiaro che com'è la nostra logica prima ci prepariamo e qui approfittiamo per formare una squadra quella che vedete alle mie spalle sono 12 formatori che vengono da un po' delle regioni d'Italia nord, centro e sud che poi dopo andranno sul territorio a formare queste squadre per l'utilizzo di questi carrelli il quartiere Vallato cambia pelle il comune di Fano ha presentato un progetto per la ristrutturazione di alcune aree di questo importante quartiere cittadino un progetto da mezzo milione di euro un progetto di riqualificazione che vuole incentivare la socialità del quartiere del Vallato il comune di Fano ha presentato nei giorni scorsi la nuova veste della piazza esistente dietro la chiesa di San Paolo Apostolo spettacoli all'aperto spazio per i più piccoli attività sportive e ludiche saranno alcune delle tante attrazioni di questo luogo il costo dell'opera è di circa 500 mila euro sarà realizzato diciamo in tre parti fondamentalmente la prima più vicino alla chiesa dovrà essere riportata al piano per creare appunto uno spazio aggregativo che connetta il resto del parco il centro commerciale con la chiesa poi sotto ci sarà questo spazio appunto con la fontana e con le opere d'arte contemporanee che vorremmo mettere e più in basso ancora allo stesso livello dell'attuale manteneremo il campo da pallavolo all'aperto che è comunque molto frequentato dai bambini d'estate soprattutto la nuova piazza realizzata dall'architetto Ceccarelli è stata presentata alla popolazione con commenti positivi anche perché renderà un posto lasciato a se stesso con i segni del tempo in un luogo moderno dedicato a residenti e ragazzi ormai sono passati anni da quando è stata creata e dunque aveva bisogno di ornestare e soprattutto creare un'interconnessione tra la chiesa e il centro commerciale in maniera tale che ci sia appunto una grande piazza dove la gente si incontra infine il progetto andrà a completarsi con la realizzazione della nuova casa della comunità della parrocchia San Paolo finanziata dalla CEI e con la creazione del nuovo parco urbano all'ex campo d'aviazione dal vallato si svilupperà e si collegherà al centro alla città in maniera tale che insomma si possano creare anche percorsi ciclabili e pedonali ovviamente ci aspettiamo suggerimenti e osservazioni ma crediamo che una volta fatto questo progetto il quartiere vallato veramente sarà riqualificato e sarà apprezzabile io credo il lavoro dell'amministrazione comunale che ha riportato questo quartiere al centro della propria attenzione Adesso invece diamo spazio alle vostre segnalazioni che oggi ci portano a Fano un nostro reporter di strada ci ha inviato queste fotografie per denunciare lo stato di degrado della via che da Centinarola conduce al prelato in direzione Fenile siamo stanchi di percorrere una strada in queste condizioni ci ha scritto il telespettatore perché come vedete è piena di buche anche di grosso diametro fino a 40 centimetri siamo abitanti dimenticati dalla giunta comunale compreso il nostro sindaco ma le bollette a concluso il reporter arrivano puntualmente e alla faccia del distanziamento invece è stato il commento arrivato da un altro telespettatore che ci ha mostrato come viaggiano gli studenti alle ore 13 sui mezzi di trasporto pubblico locale quello che state vedendo è l'autobus numero 4 pieno di studenti anche in piedi che parte dalla stazione di Fano e arriva nel borgo di Carignano infine dal lungomare di Fano c'è arrivato questo video anzi queste foto di un delfino morto spiaggiato sul bagnasciuga all'altezza dell'hotel Playa a Torrette il maltempo e le mareggiate potrebbero aver contribuito al decesso del cetaceo e adesso apriamo l'album di Fano TV andiamo subito a fare gli auguri a Carlo Lanari e Nella Galdenzi di Cerase di San Costanzo che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio un traguardo importante per questa coppia che vediamo nelle due fotografie il giorno del matrimonio e uno scatto invece recente Allora vi ricordo che lunedì lunedì sera partirà la nuova stagione di Primo Cittadino l'ospite di questa prima puntata sarà il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi riconfermato recentemente subito dopo di noi invece le previsioni del tempo domani mattina alle 7 in diretta la rassegna stampa con il commento ai giornali del giorno Grazie per averci seguito e arrivederci